La giornata internazionale delle persone con disabilità ci ricorda quanto ancora c'è da fare per rendere il mondo del lavoro realmente accessibile a tutti. In avio aereo siamo in prima linea per creare le migliori condizioni affinché tutte le persone possano realizzare il proprio potenziale professionale. In avio aereo non ragioniamo per sottrazione, al contrario valorizziamo le nostre persone sulla base delle loro competenze, di quanto possono dare e del loro potenziale. Crediamo nel valore della persona in sé, solo così si riesce ad ottenere il meglio ed andare oltre. In avio aereo il futuro è già oggi. Come persona e manager di avio aereo sento forte la responsabilità di dare un contributo concreto per abbattere tutte le barriere materiali e non che ostacolano la piena espressione individuale nel mondo del lavoro come nella società. Il 3 dicembre è l'occasione per riflettere su quanto è ancora lontana la meta della piena inclusione e attivare le energie necessarie a raggiungerla. Per me la disabilità è un'occasione di andare oltre i propri limiti. È vero che ti insegna molto bene cosa non puoi più fare, come nel mio caso non posso più camminare, ma è anche vero che ti insegna tutto il restante delle cose che puoi ancora fare e in quelle dal 100%. Io sono qua oggi per la giornata internazionale delle persone con disabilità e questo è il mio messaggio. The future is accessible, the future is now. The future is accessible, the future is now.